Ciao ragazzi, benvenuto in un nuovo episodio di Cucina col Pazzo, oggi facciamo la panzanella. Ecco gli ingredienti, pane, tonno, aceto, acciughe, capperi, cipolla fresca, basilico, pomodori, sale. Eccoci, per prima cosa, prendiamo il nostro pane con le, con la la, e lo andiamo a levare, e andiamo a levare la grossa. Le villano. Qui vi consiglio un pane già un po' di qualche giorno. Subito. Che guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare vicino al juppos, poi sopra i muri, tipo in latino. Evviva le donne, evviva il buon vino, sono pieno di complicazioni, che male c'è, non le lascio più, che tra l'ara e tra l'edo. Poi andiamo a fare dei pezzetti piccolini, riduciamo la mordica. Potete farlo anche a mano. E andiamo a bagnarlo, a mollarlo con l'aceto. Ecco, andiamo con il nostro aceto. E lo lasciamo a mollare un attimo. Quando è passato un po' di tempo, prendiamo il nostro pane e lo sbricioliamo, per ridurlo in piccoli pezzettini. E lo mettiamo all'attima parte e prepariamo quello da mettere insieme al pane. Eccoci, ora iniziamo a preparare quello da mettere con il nostro pane. Cipolletta fresca. Andiamo a... Tendiamo la nostra cipolla e la tagliamo finemente. Siamo sospesi in un buon occhio sport dove allo specchio tu canti con il fan. Certo che lo sai, prendo tutto e te ne vai, per vedere se è vero, che poi ti vengo a cercare. Torni solo se, tutto tranne te, la tua festa non c'ero, ti hanno vista ballare. Appena tagliata la nostra cipolla la andiamo a unire al pane. Dopo aver messo la cipolla andiamo con i nostri pomodolini. Ileviamo i semi interni. E anche questi li andiamo a fare a pezzetti non tanto grossi. Così, e andiamo dopo anche questi a unirli al nostro pane e cipolla. Ecco qua. Ciao, sono Anna Linsa e mando un grandissimo saluto a tutti gli amici dell'Italia. Ciao! Dopo i pomodolini andiamo a unire i nostri pomodolini. Dopo i pomodolini andiamo a unire i nostri pomodolini. Dopo arrivo la polline, creduto fosse neve, non mi sento contento. Chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la vedosa giornaliera di sorrisi. Ricambiati per i pomodolini, per i pomodolini e per i pomodolini e per i pomodolini. In parte con i nodi e con i covardi. Poi andiamo a mettere i capperi. si costa perché mi dici in due 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 la gioia in due due poi ce ne andiamo a mettere le acciughe queste le spezzettiamo un pochino il cielo rosso l'orizzonte allora ha preso bene dove mi chiede quello che non so dire la mia solitudine poi ci mettiamo qualche foglia di basilico le tagliamo leggermente poi ci stanno bene anche come guarnizione sopra uno mi risponde adesso dov'è dov'è in due in due in due in due la scranna due e poi saliamo e diamo una mescolatina il sale trova ed ecco a voi la mia ricetta della panzanella